ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome rossella pani io sono una messaggera dell'arcangelo michele e mi occupo anche di coaching spirituale ed energetico per aiutare le persone a eliminare le paure i blocchi e riallinearsi all'amore alla propria anima al proprio scopo divino e mi occupo anche di insegnare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce trasmettere quindi questo dono straordinario e anche di aiutare le persone a connettersi con i propri angeli seguendo degli insegnamenti validi che sono gli insegnamenti dell'arcangelo michele ok questo è un video di presentazione del mio nuovo webinar da casa ok sulla connessione angelica diciamo questo webinar sarà il 29 no scusate voglio vedere bene il 30 e il 31 di gennaio 2021 quindi due giorni dal vivo purtroppo ancora non è possibile incontrarci di persona ma è possibile diciamo lavorare da casa attraverso internet con l'utilizzo di un programma come skype ci connetteremo tutti insieme per fare questo grande lavoro straordinario è un vero e proprio corso un vero proprio seminario come dal vivo è possibile stabilire la connessione con gli angeli e con l'arcangelo michele abbiamo già fatto almeno due o tre corsi da sulla connessione angelica purtroppo con da quando diciamo abbiamo questa situazione attuale dove non è possibile stare troppo vicini e quindi è impossibile lavorare a stretto contatto e di persona comunque è possibile fare questo lavoro meraviglioso attraverso il vostro pc il vostro tablet o il vostro cellulare ok questo corso questo webinar inizierà sabato 30 gennaio alle ore 3 e finirà verso le 7 7 e mezza ok e lo stesso vale per la domenica 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 31 ok diciamo che la classe sarà con un massimo di 15 20 persone non di più e potremo appunto lavorare a stretto contatto per per potervi così trasmettere gli insegnamenti dell'arcangelo michele questo corso questo seminario si suddivide in tre fasi la prima fase dove verrà insegnato come leggere le carte angeliche le carte angeliche sono uno strumento molto potente di divinazione se usate correttamente diciamo che l'importanza della connessione che sia attraverso le carte o che sia attraverso la scrittura o la connessione diretta e diciamo l'importanza è quello di essere dei canali puliti per questo tutte le persone che parteciperanno a questo corso sono invitate a fare un lavoro di grande preparazione attraverso la preghiera ok ho pubblicato nel mio sito e anche su youtube le preghiere fondamentali di preparazione energetica che sono la preghiera di protezione psichica giornaliera il processo di liberazione è la preghiera di protezione della casa e degli ambienti ok nello stesso seminario si pregherà tanto si mediterà tantissimo per entrare in uno stato molto profondo del nostro essere per entrare in contatto con la nostra anima quindi imparerete a leggere le carte seguendo gli insegnamenti dell'arcangelo michele utilizzando la sacra protezione dell'arcangelo michele e quindi imparerete a ricevere i messaggi delle carte ma è molto possibile che inizierete anche a ricevere messaggi aggiuntivi dai vostri angeli dalle vostre guide più elevate dall'arcangelo michele possono arrivare intuizioni possono arrivare immagini sensazioni diciamo che imparerete a sviluppare quello che il canale più giusto per voi o il canale della chiaro sensienza attraverso il vostro sentire la vostra intuizione o il canale della chiaro veggenza ok quindi attraverso immagini visioni visualizzazioni o anche addirittura la chiaro udienza diciamo che la caratteristica di questo corso è quella di insegnarvi a radicare la vostra energia fino al centro della madre terra di rimanere centrati e presenti di connettervi col cuore e di far sì che la mente sia uno strumento del cuore e smetta di essere strumento dell'ego ok quindi è veramente un grandissimo lavoro di vero proprio ricollegamento di connessione con la vostra anima col vostro sacro cuore poi seconda fase sarà il livello di scrittura ispirata molto probabilmente questo lo faremo il secondo giorno ok dove verrete guidati attraverso una gran un grande lavoro di meditazione con la presenza angelica con la presenza dell'arcangelo michele di questa forza straordinaria che vi aiuterà a liberare tutti i vostri canali da tutto ciò che vi sta impedendo di ascoltare l'amore di ascoltare la voce dell'amore ok e quindi vi aiuterà a veramente a trovare questa connessione col vostro sacro cuore e diciamo verrete ispirati nella scrittura dei messaggi che arriveranno per voi e per il vostro massimo bene può trattarsi di brevi messaggi come di messaggi abbastanza lunghi e importanti che vogliono aiutarvi per ricollegarvi col vostro scopo divino diciamo che chi sta cercando lo scopo divino della propria anima o chi vuole dei chiarimenti nel proprio percorso nel proprio cammino di vita ecco che questo lavoro di questo corso questo webinar può essere proprio adatto per voi proprio perché l'arcangelo michele è l'angelo che aiuta le persone a ricollegarsi col proprio scopo della dell'anima ok è ok e quindi questa è la seconda fase il secondo livello è l'ultimo l'ultima fase l'ultimo livello del del webinar sarà quello di aiutarvi a connettervi col col vostro sé divino quindi con la con la vostra anima con la parte più elevata di voi stessi e con i vostri angeli e con l'arcangelo michele ricevendo guide assistenza diretta quindi proprio senza utilizzare le carte senza scrivere riceverete proprio dei messaggi che fluiranno attraverso i vostri il vostro canale ripeto andrà a diciamo a svilupparsi maggiormente quello che il vostro canale più più giusto per voi ok diciamo che non ci sono regole diciamo la vostra anima sa cos'è giusto per voi quindi se voi siete più sensibili più chiaro senzienti sarà quello il canale che andrà a svilupparsi se siete più visivi o più diciamo uditivi non solo un udito esterno ma in realtà la chiara udienza un udito interiore allora andranno a svilupparsi queste capacità ricordiamoci che questo è un lavoro protetto è un lavoro sicuro un lavoro che vi consentirà di rimanere radicati alla terra e anche presenti ok è un lavoro di grande introspezione di grande guarigione e di grande allineamento alla vostra anima e al vostro vero sé ok quindi due giorni meravigliosi che vi aiuteranno a stabilire la connessione angelica naturalmente usciti dal seminario una volta che voi imparate come fare quali sono gli strumenti verranno dati anche gli strumenti per lavorare per continuare a lavorare voi stessi per continuare a stabilire questa connessione giorno per giorno è un allenamento allenamento spirituale va bene questo diciamo che è un'apertura del canale è una connessione una riconnessione con la vostra anima e il vostro sé ma deve essere diciamo è un lavoro che voi dovrete continuare a fare giorno per giorno per migliorare la connessione per per diventare un tutt'uno con la vostra essenza lo scopo divino lo scopo di questo corso di questo webinar è quello di aiutarvi a unire la vostra parte umana alla vostra parte divina quindi se stai cercando delle risposte e vuoi essere tu stesso o tu vuoi essere diciamo tu ad ascoltare direttamente i messaggi a ricevere i messaggi direttamente dal tuo cuore e questo può essere l'occasione giusta per sviluppare questa capacità ok in maniera molto armonica gentile e soprattutto sicura e protetta per qualsiasi informazione non esitate a contare ad ascoltare le testimonianze di chi ha già partecipato ai miei corsi al mio seminario le testimonianze le trovate visitando il mio sito www connessioni angeliche puntocom in alto troverete il link con la scritta testimonianze dei seminari di connessione angeliche oppure guardate qui sotto ok c'è la locandina del seminario con tutte le testimonianze questo vi può aiutare anche ad acquistare maggiore fiducia in voi stessi ok perché veramente ho avuto o testimonianza di persone che prima non sapevano come come la propria anima comunicava con loro non riuscivano a riconoscere i messaggi e ad ascoltare la voce del cuore invece dopo il seminario dopo il seminario hanno iniziato a ricevere la guida divina dei propri angeli dell'arcangelo michele e della propria anima quindi anche tu puoi connetterti con la tua anima anche tu puoi ricevere la guida divina io vi saluto vi abbraccio e ci sentiamo presto e ci vediamo presto per condividere questa esperienza meravigliosa insieme a presto ciao ciao